Un messaggio importante ai tifosi della Juve, un'altra volta sono andato in chiesa, stavo pregando, ero così, con gli occhi chiusi, e ho sentito una cosa, una mano, ho detto, ma sarà Gesù Cristo che è sceso dalla croce, che mi sta, non volevo guardare, ho guardato, ero un tifoso della Juve, che mi ha chiesto una foto, ma dentro all'iglieza, allora fino alla fine si, ma non fino all'iglieza, cioè non si fa così, va bene? I love this game, ma veramente?